ciao oggi facciamo un bel trucco spero almeno che sia bello ed è questo qua con la palettina essence night club ho già messo il primer e adesso con questo grigio chiaro inizio subito lo metto nell'angolo interno non su tutta la palpebra fino alla piega dell'occhio metto per metà circa ecco è molto chiaro poi prendo un pennellino a penna e con questo color petrolio spero che ho difficoltà come al solito con la luce lo vado a mettere da metà lo applico proprio tutta la palpebra inizio anche a sfumare con il grigio chiaro e creo anche la codetta ecco qui poi con una matita secondo me è color otanio petrolio però qua dice verde acqua questa è wicon ed è fantastica guarda che bella uffa la luce vado a metterla all'interno della rima e anche all'attaccatura delle ciglia dopo di che faccio la riga che delinea la fine praticamente della della codetta la mischio con la matita nera all'interno e all'attaccatura grazie amore i braccialetti dell'occhitti così fisso con l'ombretto color cotanio si è all'interno cosa c'è amore aiuto mi ha dato la polverina nell'occhio mi stavo uccidendo da sola si amore dicevo è fisso con un po' d'ombretto poi prendo il l'ho messo qua l'ho messo qua un altro pennellino a penna prendo un po' di nero vado piano piano perché altrimenti rischio di fare un pastrocchio e vado proprio qui alla piega unisco e correggo un po' qua la fine ok ok ho una sfumatura con il nero ho sfumato un po' perché era perché lo volevo non troppo scuro e adesso aggiungo il verde il color petrolio sia qua perché ho sfumato un po' cosa amore è caduto? non fa niente e anche sopra dove ho messo un po' di nero così da una bella sfumatura unisco qua aggiungo un po' di grigio chiaro e adesso con la matita nera vado a tracciare una riga all'attaccatura delle ciglia con la matita nera mi fermo qui perché tanto ho già fatto la codetta con quella color ottaneo verde acqua adesso vado a mettere il mascara e dopo il mascara un po' di correttore illuminante sotto l'arcata caduto amore rifalla la torre bravissima qui e si sistema e sulle guanciotte un blush effetto acquarellato questo qua che bisogna passare e sfumare velocemente perché è tipo una tinta per guance quello che avevo già messo perfetto e poi sul viso metto soltanto c'è un caldo da morire metto soltanto una cipra a terra una cipra a terra sottrio e lo sfumo col pennellone su tutto il viso così fisso anche il correttore è il blush ma giusto pochissimo e sulle labbra usiamo un bel rosso questo è di Wicon è bellissima faccio il contorno faccio tutto il contorno e la riempio con la matita stessa e siccome ho le labbra un pochino secche metto un po' di gloss sopra questo è di quelli da battaglia quindi non uso il pennellino ma uso il suo applicatore perché tanto è già lo uso sempre per i rossetti rossi o scuri ma lo uso per tutti buoni grissini amore ed ecco qua il truppo è finito spero che vi piaccia o a me piace molto si amore fatemi sapere e al prossimo bacio al t ciao